Noi ieri siamo arrivati alle 15, sono entrata dentro insieme a mia madre alle 15.45, hanno chiamato il numero 10 e mia madre aveva il numero 45. Quindi dal 10 al 45 siamo entrati dentro a fare la vaccinazione più o meno alle 5.30, ha fatto la vaccinazione, è uscita, ha aspettato poi quel quarto d'ora 20 minuti, alle 18 poi ha finito. Ciò che ha vissuto sua madre e che ha vissuto lei sono le stesse cose che hanno vissuto tante altre persone, tanti accompagnatori con genitori o nonni anziani, ultraottantenni che erano lì, cioè tempi di attesa lunghi per entrare, per la somministrazione della dose, quindi ore in condizioni ovviamente per determinati pazienti anche difficili da sostenere. Maggiori perché mia madre almeno deambula, anche se si è addormentata all'interno del teatro, ma c'erano persone di 97-98 anni, delle coppie, che non erano accompagnate, che io ho guardato e che tra l'altro alcuni figli sono usciti fuori per spostare la macchina perché poi sono arrivati i vigili e quindi automaticamente sono andati nel panico. Chiaramente non si può immaginare di far stare questi nonni seduti tutto questo tempo dove poi ci sono anche delle esigenze fisiche, per cui credo, ritengo, che ci debba essere una convocazione per questi nonni, perché si tratta di nonni dagli 80 ai 99-100 anni, convocati con un orario ben preciso perché hanno delle esigenze completamente diverse da un cinquantenne, un sessantenne che possa essere anche un soggetto fragile. Io ho parlato anche con questi meravigliosi volontari della protezione civile che poi sono quelli che praticamente sono alla porta e prendono la rabbia di tutti questi nonni. In realtà l'organizzazione è questa, la convocazione è a blocco delle ore 15 ed è colpa nostra se arriviamo prima, non è così. È il blocco di tutti questi nonni che secondo me vengono convocati tutti insieme. A mio avviso dovrebbero essere convocati come vengono convocati a Ruggi d'Aragona in orari precisi dalle 8 alle 8 e un quarto, 8 e 30, 8 e 30, 9 e 30 oppure comunque scaglionati in modo che questi nonni sanno che devono andare in un orario preciso. In questo modo non si crea né assembramento né tantomeno il disguido fisico e anche psicologico di questi nonni perché veramente ieri come 28 giorni fa si è creata una situazione veramente incresciosa e soprattutto spiacevole.